Allora, gli analisti concordi dicono che il secondo tempo dell'Ucraina sarà a un certo momento il tema di Taiwan Formosa, dove la Cina cercherà di occupare Taiwan Formosa. Le parole del già senatore di Forza Italia, Giulio Camber, andati in onda la settimana scorsa a Ring, non potevano avere maggiore tempismo. L'ipotesi di un'invasione di Taiwan da parte cinese è talmente attuale che il presidente degli Stati Uniti, Biden, ha espresso il suo pensiero senza sé e senza ma, dicendo che Washington è pronto a usare la forza militare per difendere Taiwan. Una risposta secca a una cronista in conferenza stampa? Sì, è un impegno che abbiamo preso. Uno scenario che rende ancora più attuali le parole di Camber su Tele4, che ha parlato di un allarme rosso Cina dopo la guerra della Russia in Ucraina ed è il rischio che il conflitto tra i nuovi blocchi diventi sempre più una questione planetaria. Formosa oggi rappresenta oltre il 30% del traffico mondiale per nave e per collegamento. È una fortezza enorme sotto il profilo economico, una forza enorme che è inversamente proporzionale al territorio, seppur grande ma seppur anche molto piccolo rispetto alla Cina. Sempre in questi mesi, degli sconfinamenti, sono come quando uno fa una lita, quando uno ti do due colpetti e poi vediamo se contro il muro com'è. Stiamo vivendo una creazione di blocchi, addirittura propedeutica, in futuro a questo secondo capitolo che potrebbe essere veramente la terza guerra mondiale. Questo è il disegno geopolitico possibile? Il rischio? Il rischio è altissimo.